partnership albanese per il parco nazionale del cilento e ballo di diano nell'ambito dello sviluppo territoriale l'ente parco infatti parteciperà come partner nel progetto in fase di redazione park up verso il bio distretto del parco nazionale di viac caravasta in cui saranno coinvolti i vari comuni cilentani tra cui pollica che sarà capofila e i comuni di gioi laurino salento orri a moio della civitella e perito oltre al politecnico di milano e alle controparti dell'albania il comune di div giac il parco nazionale del distretto un accordo che favorirà lo scambio culturale e territoriale in primis ma soprattutto lungimirante in vista dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile il programma d'azione sottoscritto nel 2015 dai paesi facenti parte dell'onu che tra gli obiettivi comuni contiene anche questo aspetto riguardante la cooperazione nello sviluppo un passo in avanti anche per il parco nazionale del cilento vallo di diano e alburni che continua l'opera di promozione che punta a far conoscere il nostro territorio a livello mondiale senza porsi limiti e confini grazie a tutti